Come? Come si chiama la signora? Io sono una proprietaria, Marcia Marcello. Come si chiama? Marcia Marcello. Fratella Politaria, giusto? Sì, sì. Quali anni ha signora? 50 per fare. 50? Quattro. Complimenti per la casa signora. Sì. Complimenti veramente parola. Qua come ora di gatto? Solo di gatto. Qua c'è il suo nome. Com'è il suo nome? Lombardelle. Lombardelle. E' la proprietaria pure? No, no, la nipote. Chi anni ha? 20. Sto riprendendo la catena, no? Sì. E' il poveriggio. E' il poveriggio. Si. Non è anche un po' di freddo, c'è l'unico... Se vi piacca che ha una vera, mi dico, la la cesta, c'è la pancia, c'è la pancia, c'è la pancia. E' il migliacchio. Se è una tolto. Si, scusa. Con tutto a me, non è che la nostra catena, c'è così, soprattutto, non ci siamo. Ci sanno. Si. E' il migliacchio. quindi siete rimasti senza luce senza luce e senza acqua come animale la casa dentro è piena ovviamente oggi come è piena ci avviene a sbattare magari ci avviene a sbattare